Incubo senza fine per un insegnante che ormai da diversi mesi è alle prese con un grave furto di identità. I primi segnali d'allarme sono scattati con alcune difficoltà nell'accedere all'account di posta elettronica. Inoltre il cellulare dell'insegnante risultava bloccato. Da lì a poco la denuncia dell'accaduto ai carabinieri. Io non avevo più accesso a niente, non potevo comunicare con nessuno. Allorché mi sono allarmata perché mi ero resa conto dell'accheraggio delle mail, dell'accheraggio di questo telefono, quindi l'avevo capito, e mi sono rivolta immediatamente a un numero verde per bloccare la mia sim e sono scappata proprio letteralmente dai carabinieri di Vallefoglia, dove abito io, per denunciare l'accaduto. Quindi in data 27 marzo io ho esposto la mia prima denuncia, chiaramente contro i gnoti. Sono andata in un centro per effettuare il recupero della mia scheda. Ho dovuto chiedere la sostituzione della scheda proprio per riappropriarmi del mio numero di telefono. Ho dovuto aspettare 48 ore per avere il recupero del mio numero telefonico e nel frattempo ho saputo che la mia scheda, il data 26 marzo, quindi proprio il giorno in cui io mi ero resa conto, di questa scheda era stata chiesta la sostituzione in un centro di Catania. Ora io quel giorno ero a Pesaro, mi chiedo come facevo ad essere a Catania. Da lì sono partite una serie di situazioni fraudolente, a mio nome, per le quali ho dovuto non solo esporre e fare denunce a Catena, sono arrivata forse all'ottava denuncia, ma chiedere chiaramente di essere assistita al mio legale. La vittima del furto d'identità, una dipendente della pubblica amministrazione, ha dovuto fare i conti con alcune difficoltà nel ricevere lo stipendio. A causa di tutto ciò che loro sono riusciti a fare con la mia scheda SIM, perché i dati poi sono salvati sempre su Google, quindi non so in che modo perché non sono così tecnologica, sono riusciti a chiararmi anche lo speed, uno speed che chiaramente abbiamo capito che non è così sicuro come ci vogliono far credere. Sono entrati in Noipa e hanno cambiato persino l'Iban di accredito del mio conto corrente, che è andato a finire in un conto corrente presso una banca, su un conto corrente non intestato a me. Quindi al momento mi ritrovo senza la carta di credito, senza la carta d'identità, perché me l'hanno clonata e quindi ho dovuto bloccare, senza stipendi, senza neanche la patente, perché ieri mi sono resa conto che siccome la mia carta d'identità è stata bloccata, adesso stanno utilizzando la patente. Stamattina sono dovuta andare alla motorizzazione a bloccare la patente. Nonostante le tante denunce, sono emerse poche novità dall'attività investigativa. A tal proposito è risultato importante l'intervento dell'avvocato Pia Perricci, che tramite alcune indagini difensive ha raccolto informazioni rilevanti. Inizialmente abbiamo iniziato con tutta una serie di diffide. Adesso inizieremo delle azioni legali, perché purtroppo dal 27 di marzo, che è stata fatta la prima denuncia, sinora non si è mosso nulla. Quello che è stato scoperto è stato scoperto grazie a indagini difensive. Infatti siamo riusciti ad avere i nominativi di due persone che fanno a capo di questa banca. Un pluripregiudicato che vive in provincia di Catania e una signora nata a Napoli, fra i quali ci sono stati questi scambi di conti correnti bancari e scambi di accrediti. Però noi stiamo aspettando delle spiegazioni. Spiegazioni dal Ministro, perché la legge di bilancio del 2018 prevede che gli stipendi non possano essere accreditati su conti correnti intestati a terze persone. E invece il sistema Noipa ha accreditato questo stipendio senza fare una piega. C'è una falla grandissima all'interno dello speed, perché questo speed viene richiesto così telematicamente senza fare registrazioni, quindi chiunque si può sostituire una persona. Di fatto noi oggi abbiamo una doppia personalità, perché abbiamo la mia assistita che non ha più un'identità e un'altra persona che va in giro per l'Italia a vendere, acquistare, chiedere finanziamenti, tutto a nome della mia assistita. Ci devono dare delle spiegazioni e vogliamo sapere come mai questa lentezza nelle indagini. Avvocato, un consiglio per evitare altre truffe? State attenti a tutto ciò che mettete in rete. Non condividete mai documenti tramite WhatsApp, perché chiunque ha accesso al vostro WhatsApp può clonare la vostra identità e c'è un avatar in giro che fa quello che voi non fate.